Vi invito a nome della CGL a sottoscrivere l'iniziativa dei cittadini europei New Deal for Europe, abbiamo bisogno di provare a invertire la direzione di marcia di un'Europa che si sta impoverendo, che sta rinunciando a possibilità di crescita e di tutela di posti di lavoro e di nuova occupazione. È possibile fare in modo che la prospettiva di milioni di giovani, di cittadini europei, cambi attraverso la proposta di New Deal for Europe. In questo senso, la firma sui moduli cartacei scaricabili dal sito www.newdealforeurope.eu, la firma elettronica, sono un fondamentale passaggio per far vivere di cittadinanza attiva questa nuova idea di Europa.